Ciao a tutti! Oggi pubblico il mio primissimo video tutorial in assoluto per quanto riguarda il make up. Da tre anni che sono qua su youtube non ho mai pubblicato nessun video in cui vi mostravo le mie capacità nel truccarmi, questo perché ci sono tantissime ragazze qua su youtube che sono veramente bravissime, quindi non mi è mai sembrato il caso di cimentarmi io, però con questo giro ho voluto provare e vincere un pochettino la mia paura e la mia timidezza ed ho realizzato un make up per la serata di San Valentino ed è quello che mi vedete indossare adesso. Era il mio primissimo video tutorial, ero molto emozionata quindi spero di aver ripreso in maniera adeguata, spero che possiate vedere bene quello che ho realizzato e soprattutto che vi piaccia questa proposta per il make up. Mi raccomando ci tengo tantissimo, fatemi sapere nei vostri commenti che cosa ne pensate, che cosa ne pensate della scelta che ho deciso di fare e fatemi sapere invece voi come vi truccherete per la serata di San Valentino, sono molto curiosa, lasciatemi scritto tutto nei commenti, liberissimo di scrivere anche se appunto non vi è piaciuto questo trucco, questo tutorial. Potete tranquillamente scrivere Gio era meglio se continuate a non fare video tutorial. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Sì, 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 ciao! Sì!